Ragazzi ho visto che i video più lunghi ovviamente vi piacciono di più quindi ve lo ripropongo a 3000 mi piace il prossimo episodio ve lo faccio XXL da 25 minuti in cui andiamo a fare un'altra costruzione di quelle gigantesche Detto questo anche l'episodio di oggi è molto figo e andiamo a fare dei sistemi di difesa navali molto molto interessanti ragazzoli buona visione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita, sesta stagione e devo farvi vedere un sacco di progress che ho fatto alcuni ve lo spoilerati in questo secondo Proprio in questo momento però fotte sigma prima penso potremmo andare tranquillamente a dormire perché piove ed è notte e quindi ci prepariamo per la No non posso dormire va bene lo stesso Allora riscendiamo Allora iniziamo da quella cosa più vistosa ho ucciso tre Wither Boss Mi sono fatto passare un po' di... perché avevo tempo da utilizzare no per farmare un po' di roba per fare un sacco di modifiche infatti ho fatto un sacco di modifiche Tra cui c'era anche quella di... cioè gli obiettivi primari erano questi solo che avevamo ucciso già quattro Wither insieme Era inutile fare un altro episodio in cui uccide altri tre Wither è noioso quindi ho detto vabbè ok lo faccio se volete le clip nel prossimo episodio invece le metto tanto le ho registrate E tutto il resto Ecco qua quindi il... i bellissimi... Cosi Wither Tanto perché per batterlo non è avventurosa la cosa vai nel nether lo crei per orizzontale lui quando si sposta in verticale rimane incastrato nella bedrock e lo uccidi Cioè ci vogliono 30 secondi non è divertente Punto secondo andiamo a vedere qua il magazzino perché il magazzino è la parte più bella forse che io abbia costruito E' molto 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 figa Guardate un po' eh No 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 la... cioè la parte... vabbè adesso tanto vi faccio vedere Prendiamo un pezzo solido che non so di gravel Per aprire il portone Tac Bravissimo Uo la scendi E vai di qua solido Finora poi non c'è più la scala Si gira qua a destra Poi si gira a sinistra Si sale c'è il golem E arrivi qua dentro Con tre golem Perché non mi piace questa scaletta qua in mezzo Quindi ho fatto questo è più carino Con la salita Se c'è più spazio è tutto più bello Tutto più carino Mi piace preferisco di gran lunga Adesso questi li possiamo ritogliere E richiudere e riuscire Ok? Questa era l'altra modifica che ho fatto Altre modifiche sostanziali sono state Mettere il micelio anche lì Ma quella non è grande modifica sostanziale E poi di là adesso vi faccio vedere anche quelle che ho realizzato dall'altra parte della casa E poi iniziamo con l'episodio di oggi Perché se no qua perdiamo troppo tempo Qua sponte Si gira a sinistra Solito coso Qui c'è tutta la stradina Fatta bella di tre voglia a slargare Tutte le strade Poi si risale C'è tutto sto bel ponte Largo, largo, largo Si riscende qua e si arriva Nei pressi della nave Che sto completando piano piano Da qui c'è tutto il percorso per arrivare sopra la nave Anche questo è molto figo Vi devo far vedere Però oggi andremo a continuare con la nave A fare sistemi di difesa per la nave Sistemi di difesa navali appunto Se arriva qua ci sono delle scale Si sale fuori E ci sono tutti questi bei cosi Le fence Insomma a me piace un botto Cioè è figo Mancano le vele Manca la casetta qua dietro E la provo Dopodichè la nave è pressoché completata Poi ne dovremo fare tante altre Cioè ho fatto la base Ora come episodio di oggi Navale Che cosa andiamo a fare? Beh Diciamo cannoni forse sono all'ordine del giorno Dispenser Prendiamo redstone Questa roba qua Questo Ci servono i I cosi Le frecce di Questo Portiamo anche questo Vabbè Per ora andiamo a fare una roba del genere Del vetro Potremmo utilizzare del vetro Sono indeciso Se ci possa servire Del vetro per la coperta Sotto Magari da mettere qualcosa Ma io me lo porto via Mi porto via anche un po' di roba Per colorarlo Perché alla fine è più carino Il vetro colorato Rispetto al vetro normale Poi Mi avete dato un paio di idee carine Adesso devo andare a ricercare i commenti Che mi sono piaciute parecchio Faccio così Faccio così Lo coloriamo tutto Ok questo lo rilasciamo di qua sopra Però dai fiori Perfetto Andiamo Di là a vedere un po' Quello che viene fuori Da tutto Stambara Da quello che ci possiamo inventare Con questi alberi li devo togliere Madonna danno un fastidio Poi Eccoci qua Ok siamo a bordo Perfetto Adesso dovremmo però Forse fare un salto fuori bordo Per vedere davvero se E qui non ho beacon Non ho potenze extra Per vedere un po' dove metterli Su quale linea Mettere questi beacon Azi Perché se no Non sappiamo bene Allora Ah è nella riga centrale Nella riga dei cosi Sì No in beacon Dei dispenser Nella riga centrale Ci mettiamo questi dispenser Che sparano Per forza Riga centrale Del Del log Sì Del log Ok Quindi abbiamo già Però dobbiamo metterli da fuori Questa è una bella rottura di cavolo Quindi dovrò andare a casa Probabilmente prendere la terra E rifare il tutto In tutti i casi Voglio anche Non ho legno Però posso salire tranquillamente Da qua Voilà Ecco qua Comodo Allora iniziamo a mettere Facciamo uno Due Tre Questo è il terzo Giusto Ok leviamo questo Con la pala giustamente Non me lo toglie Ok Passi di tre Vediamo quanti riesco a metterli Easy Veramente easy Perché sono Intanto Cioè paro il conto Perché sono tre da una parte Tre dall'altra E poi sono quattro A distanza di tre Regolarissimi Quindi Per quanto riguarda L'attivazione Oh Bella domanda Bella domanda Bella domanda Bella domanda Come l'attiviamo Come l'attiviamo Con un Coso di Redstone Sarebbe figo fare Tipo Tac così Perché la redstone Sta di qua Eh però non ce la facciamo No perché Se io devo spingere Anche questo Calcolate Che lo dovrei mettere Di qua Però già c'è Quindi no Non posso Lo dovrei fare largo Quattro Però mi piace il fatto Che siano così Quindi Non farò niente Magari tutti da un lato Tutti così Tac Stessa cosa di qua Però certo Madonna è costoso Sto metodo Ci metti il dispenser Qua sopra E vai tranquillo Che te lo spinge Beh non potrebbe È cattiva come idea Sai Tac Cioè è carino Il sistema Secondo me Il metodo Il modo Con cui lo facciamo Perché vai qua Spingi qua sopra E ti parte il cannone Oppure li facciamo Tutti sincronizzati Però farli tutti Sincronizzati Il problema è che ti partono tutti E poi è brutto Sincronizzati Perché la redstone Non ci sta bene qua No dovresti trovare Un metodo più carino E simpatico Meccanico quasi Anche se Perché poi alla fine No se lo devo fare Uno per uno Metto il pulsante sopra E finisce Pensiamoci su Pensiamoci un po' su Come potremmo davvero Fare questi cosi qua Allargando magari Qua dietro i due Facendo una cosa del genere No perché poi adesso C'hai tutto Tranquillo ovviamente C'hai una cosa del genere Però è bruttissimo Il fatto che ci sia Qua tipo davanti Una cosa del genere Tu arrivi Qua sali Che poi dovrebbe esserci Anche qua Perché devo dare il segnale Lì quindi Però se creda Escludere sta roba No e poi è carina L'estetica è bella Per questo Allora fatemi pensare Fatemi pensare Fatemi pensare Che cosa potremmo andare Ad utilizzare Non lo so Devo essere sincero Non ho la più Qualità di come farli Attivarli Tu insieme Tutti Allora O attivi Aspettate 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 Da sotto Pistoni Che si alzano Così Eh ma Io dovrei dare L'impulso Vediamo un po' Se faccio una cosa del genere Tac Poi ci metto Sopra questo Tac Così non funziona Ma se io ti do L'impulso Ma se io ti do l'impulso A questo Tu sali Giustamente E potremmo farli così Per esempio Perché no Questa parte qua Vai così Gli metti solo al blocchino Di redstone Qua dice no 5 Me ne manca uno soltanto Però ho slime block Quindi posso utilizzarle E da qui Oh So che non è proprio Il massimo Se io mettessi Un pulsantino A chi Uno qua Esatto Bellissimo Così Tac No però Perché loro Prendono il segnale Non si può Non riscenderebbero più Così non si può fare Perché non riscendete Oh Ma dai Perché non riscendono Cioè Sono bloccati Levo questo Ovviamente Loro si ri-update Non riscendono No Non mi dire Che me l'ha buttato fuori Cioè Ma hai buttato fuori Il pezzo di redstone Ho perso 9 pezzi di redstone Che non è un problema Ora Premessa che gasano Le cose messe così Ma veramente tanto Forse ho trovato la 5 Ho trovato la soluzione Oddio Tac Così E poi riscende Fa così Così E poi risale E poi riscende Così Risale No Ma perché qui son due No son tre Ok son tre Scherzavo Sale E poi riscende Questo lo levi dai Gabasesi Eh no però Porca miseria Allora dai Perché io non posso mettere la redstone Qua sopra Cioè qui ce la metti Ma qua non puoi E allora nemmeno Ah devi tenerlo così Vabbè lo teniamo così Ma è che ci fa Tanto problema eh Cioè io Non fa figo uguale La questione Peccato Perché poteva essere Un po' più carino Però eh Non ci si allarma Possiamo fare cose Lo stesso Fighe Tac 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 E poi lo rimetti Da per tutto Ti manca soltanto Lo slabino Di qua E sei per esso Che pronto Dopodiché Vai a prendere Il tuo pulsantino Te lo metti qua E non spara Un cazzo Perché non lo prendi Se faccio così davvero Non lo prende Perché deve essere Allora nella direzione Oh se deve essere Nella direzione Siamo di nuovo Da capo 12 Ok Ce l'ho l'idea E eccola qua Sarebbe proprio Proprio questa Log Il segnale passa A log Adesso così no Perché il segnale Deve passare Ok noi facciamo Soltanto attualmente Passare il segnale Poi vi faccio vedere Dopo quello che faremo Qui ci mettiamo questo No però mi serve Qua il repeater Andiamo un attimo Questo Tac Repeater Poi fai così L'ultimo L'ultimo pezzo Così E poi ci metti Ok Perfetto Ora Siamo tutti d'accordo Che così Non può funzionare Ovviamente no Adesso io l'idea è che O metto indietro Il dispenser E viene anche più figo Secondo me Quindi Facendo così Non c'hai problemi Oppure Puoi fare un'altra cosa Devi mettere un pezzo Con il cardstone qua E poi devi spezzare I collegamenti Uno E due In questo modo Il segnale passa E lui ti fa il gesto Guardate un po' Tac E te lo sputa Però A noi serve qualcosa Di più figo E quindi Penso che sposterò All'indietro questi Sai Tutto più bello E più figo Guardate che Secondo me conviene È una figata Far così Lo faccio anche Dall'altra parte E poi Tutti belli E tutti felici Abbiamo i nostri dispenser Pronti all'uso E poi andiamo a craftare Quello che ci andrà dentro Perché le frecce È banale Minstream Eccoci qua ragazzi Ho riempito il tutto E siete pronti Per la dimostrazione pratica Basta soltanto Schiacciare sto pulsante Attivare il tutto E voilà Ta-dan E si incendierà tutto Dall'altra parte Può farsi lo stesso Sono fire charge E io ho appena incendiato Mezza foresta Con sto sparo qua Ovviamente Se colpite la nave Questa è tutta di legno Prende fuoco Così Tanta roba Tanta 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 roba Belli Mi piacciono Ovviamente Non ce l'ho messa un fire charge Non ce l'ho messa tante Perché non ho possibilità Però a me A me Gaza Gaza Un botto Ho incendiato Un albero Con sto sparo Bello Dimostrazione ad hoc Ragazzi Penso che per questo video Possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo La visione di lasciare Mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto di condividere Il video su facebook E per me Sono persone Mi raccomando Passate in tutti Link in descrizione Facebook Instagram E Telegram Siamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti